Gesù mi ha fatto capire che concede miracoli a coloro la cui fede uguaglia un granello di senape e fa mutare di posto le montagne per rendere salda questa fede così piccola. Ma per i suoi intimi, per sua madre, non fa miracoli prima di avere messo a prova la loro fede.